METAL GEAR PLANET PRESENTA 100 DAYS TO THE PHANTOM PAIN Il primo settembre 2015 uscirà Metal Gear Solid V THE PHANTOM PAIN e noi di Metal Gear Planet vi faremo compagnia per ben 100 giorni con iniziative, premi e concorsi A partire dal primo giorno, ognuno di voi avrà la possibilità di vincere il tanto atteso Metal Gear Solid V THE PHANTOM PAIN basterà solo registrarsi al forum, leggere il regolamento e scrivere nel topic dedicato oppure in alternativa potete mandarci un messaggio privato via email o su facebook per partecipare al contest dovrete scattare una fotografia a tema Metal Gear lasciatevi ispirare da passione e fantasia e immortalate un ambiente, una scena o semplicemente un oggetto che vi ricorda la saga La foto più sorprendente, più divertente o più emozionante sarà giudicata come la migliore Avrete 30 giorni per mandarci la prima foto e superare le selezioni dopodiché dovrete scattare una seconda foto per la fase finale che durerà altri 30 giorni Ma non è finita qui! Ogni 7 giorni pubblicheremo questo contest sulla nostra pagina facebook e i primi 10 di voi che commenteranno e condivideranno il post guadagneranno un ticket per partecipare alla lotteria del 90simo giorno in cui potrete vincere una maglietta di Metal Gear Planet disponibile sul nostro negozio online Vi aspettiamo su Metal Gear Planet in attesa dell'ultimo capitolo della saga di Metal Gear Solid Seguiteci sul sito e sui nostri social per poter vincere i premi in valio One hundred days to the phantom pain Only for angry people